E' stata sottoscritta da 11 consiglieri comunali di Ricata la proposta di delibera di iniziativa consigliare che punta a recuperare anziché abbattere il patrimonio edilizio comunale ricadente sulla fascia costiera finalizzata al recupero e alla riqualificazione dell'ingente patrimonio edilizio, oggi di proprietà comunale ricadente entro i 150 metri dalla battigia, da destinare, così come prevede la legge, ad opere, impianti e servizi finalizzati alla diretta fruizione del mare. La proposta che ha come primo firmatario il consigliere Angelo Iacona della lista Riprendiamo il Cammino si è arricchita della firma di altri 10 consiglieri comunali, consentendo così di superare abbondantemente il numero minimo richiesto dall'astituto comunale per essere portata al vaglio dell'assemblea cittadina. Tra i firmatari è anche alcuni consiglieri che sostengono il sindaco Angelo Cambiano, e cioè Giuseppe Federico e Deborah Camilleri, assieme ad esponenti dell'opposizione, quali Angelo Vincenti e lo stesso Iacona. Secondo la proposta, le case degli abusivi licatesi potrebbero diventare basi logistiche con annesse foresterie, in modo da incettivare lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, viste le migliaia di persone che svolgono in ogni periodo dell'anno attività sociali, sportive, sanitarie e culturali, didattiche, ludiche e ricreative legate all'ambiente costiero e marino. A provare un atto politico di questa natura, dice l'ex sindaco Angelo Biondi, leader della lista Riprendiamo il Cammino e candidato alle amministrative del 2015, vorrebbe dire ridare significato al ruolo dell'amministratore locale. Per il consiglio comunale significerebbe riappropriarsi delle funzioni e delle prerogative per cui è stato eletto dai cittadini, indicare azioni e di liberare atti utili a migliorare le condizioni socio-economiche della propria comunità. La proposta di Biondi e del suo gruppo non piace all'ex vice sindaco Salvatore Avanzato, almeno nella parte in cui si pensa di affidare le strutture a cooperative giovanili che si dedicano al turismo. E dallo scorso mese di maggio, sostiene Avanzato, che suggerisco al sindaco Cambiano di applicare la norma che prevede la dichiarazione di pubblica utilità degli immobili costruiti senza licenza, come abbiamo fatto nella legislatura guidata dal sindaco Giovanni Saito in occasione della realizzazione del porto turistico. Infatti non solo il porto, ma anche le opere connesse, sebbene realizzate in prossimità del mare, sono state considerate di pubblica utilità e quindi autorizzate. A Licata abbiamo riscontrato una carenza di posti letto, recentemente è stato utilizzato un nuovo villaggio turistico e proliferano i BNB. Questo significa che la città ha bisogno di strutture ricettive, quindi queste stesse case, conclude Avanzato, potrebbero essere utilizzate per questo scopo. Il Comune affiderebbe le strutture agli stessi ex proprietari che le gestirebbero come BNB. Intanto, la ditta patriarca, che si occupa delle demolizioni di immobili abusivi per conto del Comune, dopo aver vinto una gara d'appalto, sta per ultimare i lavori di rimozione degli inerti nella sopraelevazione di Via Santa Maria. E poi si passerà al terzo elenco, con più di 70 immobili da abbattere, l'ultimo corposo elenco di immobili abusivi.